Non scatterà il 10 gennaio 2024 il passaggio al mercato libero dell'energia. In base alla bozza del decreto energia discusso in consiglio dei ministri, infatti, serviranno da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno per il passaggio agli operatori selezionati dai clienti, ora in regime tutelato. Il provvedimento conterrà disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese. Il decreto prevede l'attivazione di adeguate campagne informative e l'arrivo di un nuovo servizio per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, chi ora riceve bonus over 75, gli abitanti delle isole minori o di abitazioni di emergenza dopo le calamità a prezzi calmierati. Ma quali saranno le novità? Innanzitutto non ci sarà più un'unica tariffa stabilita dalla RERA, ma ognuno dei fornitori avrà la possibilità di proporre le proprie tariffe. Questo significa che l'utente avrà a disposizione una gamma più ampia di offerte, con la possibilità di selezionare quelle che meglio si adattano alle proprie esigenze. Tante le realtà che si stanno già preparando alla svolta, anche se manca ancora un anno, formando nuove figure professionali e generando di fatto nuovi posti di lavoro. Di questo e altro si è discusso all'hotel Britannic di Napoli, a margine dell'evento REC Energy. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Andrea Diffido e Armando Orlando. Un meeting è una formazione a tutti gli effetti, che tocca tutti i processi di front office e back office, quindi per migliorare la qualità del lavoro dei nostri collaboratori, per tutelare quelle che sono le aspettative e le esigenze del cliente. E quindi andiamo a mettere in piedi con nuovi strumenti, dei processi nuovi che ci permettono sia di velocizzare quello che è la contattabilità del cliente, ma soprattutto di monitorare quello che è la consulenza dei nostri operatori. Le caratteristiche o la caratteristica principale di REC Energy è quella di andare a soddisfare tutte quelle che sono le esigenze del cliente finale. Oggi infatti siamo qui alla Britannic per una riunione con i nostri operatori back office, dove andiamo a guardare tutti quelli che sono le possibili esigenze del cliente e andare a soddisfare la loro qualità nel migliore dei modi.